Ci siamo, siamo onestamente molto felici ed emozionati di poter consegnare alla nostra comunità questa opera attesa veramente da tantissimi anni. Io sono del 74, quindi me la ricordo come un'opera attesa fin da quando ero bambina. Quindi un'opera che faciliterà non di poco la viabilità in quello che è il centro abitato di Rignano, sollevandolo dal passaggio di mezzi pesanti che inquietavano abbastanza la nostra comunità e i nostri abitanti. Ringraziamo Città Metropolitana per la collaborazione fattiva e positiva degli ultimi anni che hanno permesso la realizzazione di quest'opera. E li ringraziamo anche per aver accettato quelle che sono le nostre distanze. Quindi vediamo una rotonda che sarà praticamente la porta del nostro paese e quindi siamo veramente felici oggi di essere qui e di poter festeggiare tutti insieme, insieme ai cittadini, insieme al sindaco Nardella, insieme al nostro sindaco quella che è l'inaugurazione veramente di un'opera magna per il territorio irignanese.